Eeeh, saluto a tutti i miei giocoperati e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo nel secondo episodio delle basi di Tarkov E oggi vi mostrerò tutti i comandi in game E approccio alle prime partite Al primo game Un po' come dover iniziare Per poter iniziare magari a capire qualcosa in game Come muoversi un qualcosina E bla 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 Quindi, non ci perdiamo subito in chiacchiere Oggi ci troviamo, non nel menu Perché vi faccio vedere tutti i comandi Almeno quelli più importanti Con l'arma, col personaggio, eccetera Iniziamo subito a dire che se avete un elmetto Con visiera o visore notturro, eccetera Basta premere N Come in qualsiasi gioco E ve lo tira giù Premete N e ve lo ritira su Molto semplice Poi, con tab, apriamo l'inventario E nell'inventario possiamo vedere il nostro gear Quindi tutta la nostra roba attuale Con tutte le statistiche La vita Quindi magari Non abbiamo le cose sullo slot veloce Ad esempio abbiamo un survival kit Qua abbiamo una gamba a zero Prendiamo e la trasciniamo In quel modo possiamo curarci Possiamo vedere le skill La mappa se abbiamo una mappa Le missioni per vedere Se siamo andati avanti con qualcosa E poi, vabbè, il classico overall Oppure qua possiamo vederlo Quindi, tab come nella maggior parte dei giochi Non come miscreated Che è G per inventario Per aprirlo Poi, se teniamo premuta la rotellina Si fa il free look Che vi funziona sempre Se non avete appunto la rotellina rotta come la mia Poi con X vi sdraiate Con C vi alzate e vi abbassate Con C E se muovete la rotellina Vedete che il mio mino si abbassa Lo vedete anche in basso a sinistra Ad esempio Io sono dietro a questa copertura Vedete? Ad esempio Così posso mirare Mi abbasso ancora No Quindi magari tengo scoperta Solo la testa E non tutto il corpo Eccetera Poi se io muovo solo la rotellina Su e in giù Vedete sempre sotto La velocità di movimento E vi fa vedere anche Quanto rumore state facendo Quindi ad esempio Così sentite No? Faccio meno rumore E se mi abbasso Anche completamente Proprio il rumore È minimo A zero E Quindi Andate veramente lenti Però farete veramente Veramente Poco casino Ed è molto utile In tantissime situazioni Poi per Fare veloce Il cambiamento Della velocità Basta premere Caps lock E Insomma E vi Vi rallentate più velocemente E poi Con shift classico Correte Io vi consiglio di mettere Che dovete tenere premuto Per correre Perché Se voi fate quello Che cliccate Una volta sola Per correre Poi lo dovete ricliccare Per fermarvi E sostanzialmente Vi fa questo Vediamo Vi fa tipo questo Cioè Vi Vi fermate Ok Poi Con E E la Q Fate Il classico Pick di lato Come c'è in tanti giochi Con alt Ed E Fate pure il passettino Quindi ad esempio Mettiamoci qua Io così Mi sposto così Vedo poco Ma faccio alt E Mi sposto veramente Un sacco Mi spolgo di più Ma lo fa anche In una velocità Ehm Migliore E magari sapete La posizione di un nemico Che ad esempio È in quel quadratino lì Voi Mirate in questo modo Che sapete Che se fate alt E Potete arrivare lì E papapap Capito Vado veramente veloce Veramente Io lo uso Un sacco E questa cosa È veramente utile Poi se teniamo premuto Alt E poi teniamo premuto D Rimango in Pick laterale Fisso Uguale se faccio alt Ed A Dall'altra parte E poi Basta premere La E O la Q E vi risistemate Poi adesso Adesso parliamo di Blind Fire Alt W C'è il Blind Fire Mentre Alt S C'è il Blind Fire Di lato Quindi Alt W Lo facciamo di sopra E Alt S Lo facciamo di lato E questa cosa Funziona solo Nel lato destro Il lato sinistro Non so se lo metteranno Però ora solo sopra E destro E qua sostanzialmente Abbiamo visto Tutti I comandi Del personaggio Del movimento Eccetera Adesso passiamo a quelli Delle varie armi Allora Se io Premo B Cambio Single Fire In basso a destra Possiamo leggerlo Premo B E si fa Si cambia Single Fire O Full Auto Se io premo CTRL E T Mi Controlla In basso a destra Quanti colpi ho Poi Se facciamo Shift T Si controlla Il colpo in canna Questa cosa serve Ad esempio Io prendo Questo qua E vedete In chamber Mi da il punto interrogativo Mi dice che lo devo controllare Qua che l'ho fatto Mi dice che colpo è in canna Qui questa cosa serve Magari lo posso Rimuovere In modo da poterlo Cambiare Per avere un colpo Più forte Nella canna E magari avere Un ottimo primo colpo Se magari Abbiamo degli 855 Per l'M4 Che fanno schifo Trovo degli M995 Invece di spararlo Il colpo E farmi sentire Lo faccio in questo modo Do il check Per poterlo rimuovere Poi WR Ricarica Tattica Quindi Siete in combattimento In un momento Veramente brutto E Ricaricate molto veloce Poi Se io Faccio Alt E B Controllati in basso a destra Come siete messi In tipo di fuoco In modo da non dover fare B E magari farvi sentire Spottare dalle altre persone Se tengo premuto R E muovo la rotellina Posso scegliere i vari caricatori Quindi voglio mettere Quello da 60 Prendo E ricarico Il personaggio Diciamo che è intelligente Perché se magari avete Un caricatore Vi mette sempre Il caricatore più pieno Giusto per Per dirvi questa cosa Quindi Magari Voi controllate Che qua siete Avete ovviamente Quasi pieno Però Io ho un caricatore Da 30 Perché sono un idiota Ho sparato un colpo Ed è E Sono un codaro Ho sparato un colpo Ricaricato Però Se ricarico Il personaggio sa Che tanto Quello da 60 È quasi pieno E come vedete Mi ha messo automaticamente Questo qua Da 60 Poi una cosa Che sarà Molto 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 Utile Non so Se ci sarà Di già Quando vedete Questo video O La metteranno Più avanti Ma visto che si Vociferava Del fatto che arriverà Questa cosa Che se voi avete La visiera giù Ovviamente voi non potete Non potete mirare Perché Perché voi dovete andare Ad appoggiare Praticamente Qua Sulla guancia Il vostro calcio Quindi O ci saranno O più avanti Metteranno dei calci Apposta Che Ve lo mette qua Sul braccio Da qualche parte In modo da poter mirare Anche con la visiera giù Però Tricamente Se avete la visiera giù Non potete mirare Come in questo caso Io posso fare Ma dovete avere O Appunto Un calcio Apposta Oppure con alt L Voi foldate La vostra arma In questo caso Potete mirare Perché ce l'avete Più Più corta E Non dovete appoggiare La guancia Sull'arma Ora non so Se questa cosa Ci sarà Di già Quando vedete Questo video La metteranno Ancora più avanti Però Visto che si può Cifrare di questa cosa Ve la dico di già Almeno se c'è Sapete di già Allora Adesso arriviamo Altre varie cose Che possiamo fare Con le armi Prima di tutto Vi consiglio Di mettere sempre Il fatto che Voi cliccate E basta Per mirare Non che dovete Tenere premuto Perché Personalmente È meglio Per alcuni Comandi Che Possiamo fare Sicuramente Meglio avere Questo tipo di mira Eccetera Allora Quindi Col tasto destro Ovviamente Si mira Come vedete Sto mirando In quest'altro Mirino Che è quello laterale Mirino laterale Serve perché C'ho Questo mirino Di fronte Ovviamente Non potrei mirare Con questo mirino Piccolo Che c'ho Il termico Però Se io faccio CTRL E tasto destro Vedete Mi switcha Il tipo di mirino E se io Faccio Alt Questa volta E tasto destro Ora Qui Notate Che diventa Più Più scuro E più chiaro Tipo Guardate quello Ok Uguale possiamo farlo con questo Ma non ho il tipo di mirino giusto Che invece ho sul val Quindi Alt Tasto destro Vedete Posso cambiare Non in tutti i mirini Lo fa come infatti quello di prima Però basta controllare Così vedete Se potete cambiarlo C'è quello che magari vi piace di più A me piace un sacco questo Perché è molto pulito C'è il puntino piccolo E se mi la fa la testa Va alla testa sostanzialmente Poi visto ci siamo di già Con Se teniamo premuto alt Anche qui possiamo mettere Che lo clicchiamo solo una volta Vi Vedete no? Guardate l'arma si muove Insomma vi respira Come lo shift di code Poi se vedete Che io quando miro In basso a destra C'è un numero Se io premo page up Page down Aumenta Questo è l'azzeramento Del mirino Cosa significa? Che io Il colpo sostanzialmente Va dove miro Di una distanza In questo caso Di 50 metri Se faccio page up Per 100 metri Io posso mirare esattamente Nel puntino centrale E' uguale a 150 E' uguale a 200 Invece di stare con gli altri mirini Che ci sono le tacche E stare a calcolarle Voi Adesso passiamo Ai attachment Quindi c'è La flashlight E il laser Le cose che ci sono Quindi Flashlight con la T Accendiamo flashlight O laser Quello che abbiamo Ma se abbiamo Ad esempio In questo caso Un X400 Se premo T E CTRL Come vedete Mi switcha E ad esempio C'ho la X400 Cosa fa? Adesso è solo torcia Adesso è torcia E laser Non so Guardate dalla mia mano Che si vede il laser Che parte Non so se si vede bene Su YouTube Oppure Soltanto laser Ok Ora si vede che sto puntando Non so cosa Ogni tanto scompare Vedete C'è già il pallino Eccetera E vi lascio Sempre qua in alto Che ho fatto un video Basato sul laser Perché in tanti si chiedevano Ma il laser serve a qualcosa E solo per sapere Dove miri C'è il video dedicato Vi consiglio di andarlo a vedere Adesso che vi ho mostrato Tutte le cose in game Che potete Insomma tutti i comandi in game O almeno quelle più importanti Passiamo un po' Alle cose pratiche Ecco Allora voi Quando iniziate Avete delle quest da prendere Quindi Come il video precedente Ve ho detto Che se andate in trading Avete tutti i vostri trader Quindi andiamo da Pra Perché sicuramente Avrà una quest Che sarà Questa qua Sarà questa qua Dove dovremo uccidere 5 scava custom E dargli degli mp133 Che sono Degli shotgun Sono Li riconoscete Perché hanno Vabbè a parte Il nome c'è scritto in tutti Però sostanzialmente Hanno il calcio marrone Magari Qualche stronzo Si monta il calcio marrone Nel 153 La differenza è 153 è semiautomatico Il 133 è il classico Pam zaza Pam zaza Quindi Questa è la prima missione Voi la prendete L'accettate E andate su custom Così fate per tutti i trader Andate in tutti i trader Che potete Guardate se avete una quest Cosa Che avrà anche la therapist Che dovremo dargli 5 salegua Che troveremo In giro per le mappe La migliore è shoreland Ma noi ci focusseremo Su custom Perché su custom Perché custom È la mappa migliore Su dove iniziare Perché è Media Grandezza È facile Da riconoscere Le zone E quindi è veramente La più consigliata Per Iniziare A capire bene Il gioco Che cosa consiglio io Io consiglio Vivamente Di andare a giocare In offline Cosa significa Voi andate Ad esempio Prendete custom Scegliete l'orario Quindi 7 di mattina Next Next Voi attivate L'offline Che vi arriverà Questa schermata Attivate l'offline Quindi voi giocare Offline Senza player E l'offline Praticamente Tutto quello Che succede In offline Rimane In offline Quindi Se voi morite Non perdete le cose Se voi luttate Della roba Ed estraete Non la luttate Sostanzialmente Quindi voi uscite Come siate entrati Se morite Non succede niente Se vi disconnettete Non succede niente Insomma Offline E' ottima Per queste cose Attivate Il pwe Difficoltà Mettete Tipo Medio Perché medio Perché se mettete As online Magari vi appoggiate Un po' troppo Sugli allori Come si suol dire Vi rilassate troppo Perché essendo Che siete in offline Sono un po' più Stupidi Rispetto all'online In online Sono veramente Peggio dei player Tra un po' Quindi vi consiglio Di mettere medio Giusto per avere un po' Un'idea E prepararvi meglio E line mount uguale Non mettete As online Perché ve ne spawna Veramente pochi Sempre mettete medio Vi consiglio di mettere Tutto a medio Così ne potete incontrare Un po' di più Se volete Abilitati boss La scav war Non l'ho mai messa Però Macello Tagged and curse Dovvero Che vi seguono Cioè Loro vi vengono a cercare Voi magari mettete queste cose Random time No nemmeno Random weather condition Lasciate quella che c'è Fate next E potete partire Io adesso non parto Perché davvero Non funziona Funzionavano offline Solo su factory Su custom E bugato Non mi entra pure Su tutte le altre mappe Però E poi fate ready Ed entrate Questa cosa perché Voi entrate E sapete E iniziate a Orientarvi un pochettino Quindi andate a giro Capite un po' Come si muovono gli scav Controllate un po' Le varie zone E quindi già Avete in mente Un'idea Della mappa Quindi ve la girate Un pochettino Vi prendete punti di riferimento Tanto gli spawn Diciamo Sono da due lati C'è il lato Rosso Che è il capannone rosso E c'è il lato Delle fabbriche In alto a destra Vi lascio sempre Il link Delle due Di tutte le estrazioni Di custom Se non mi sbaglio E' stato fatto Quando c'era ancora Il fatto che Voi potevate Scegliere lo spawn Però sostanzialmente Quella è l'idea Voi spawnate da una parte Dovete estrarre dall'altra Ora non mi ricordo davvero Se è in quel modo Che quando avevo fatto Quando era lo spawn Non me lo ricordo Quindi controllate Però sostanzialmente Voi spawnate da una parte E dovete uscire per forza Dall'altro lato Quindi In tutte le mappe è così Voi spawnate da una parte Dovete andare dall'altra Spannate dall'altra Dovete andare da quell'altra ancora Quindi Voi andate offline Vi girate bene la mappa Così vi mettete Voi nella testa Dei punti di riferimento Così poi fate una scav E almeno da scav Capite meglio Come funzionano i bot In online E dove Potrebbero trovarsi Le persone Quindi come girano i player E come girano gli scav Tanto Come vi ho detto Nello scorso video Se voi siete scav Non mi ricordo se l'avevo detto Però Se voi siete scav Gli scav non vi ammazzano Almeno che voi Almeno che non ci sia ovviamente Lo scav player Però se voi ammassate Lo scav player O uno scav E ci sono altri scav vicino Quelli vi iniziano a sparare Insomma siete cattivi Però magari vi spostate di zona E Nessuno sa niente Quindi magari Riprendono a non spararvi Quindi questa è un po' Tutta l'idea Tutta la cosa iniziale Che io consiglio veramente Tanto che vi può aiutare un botto Perché Scav le cose non le perdete Sostanzialmente Le uscite da scav Sono diverse da quelle dei player Quindi Magari non estraete Perché sono davvero più difficili Le uscite O magari vi andate a guardare Dei video Tanto ci sono un sacco di gente Ha messo video di 30 secondi Vi fa vedere dove si trova L'uscita Per questo Se voi avete fatto offline Magari Vi ricordate la zona Che avete visto E quindi sapete come arrivarci Poi Perché vi fanno vedere un pezzettino E sapete come arrivarci Perché insomma Poi fatta la scav Voi dovete entrare col pmc E poi col pmc Le cose le perdete Ora Il primo kit da farsi Voi Ora non mi ricordo bene Che cosa danno le varie Edizioni Però sicuramente Averrete diverse pistole Tra cui pm Grunge O p226 Mi sembra p226 E pm Oppure avete L'hpino E così via Io ovviamente Vi consiglio Di prendervi Una pm Vi prendete Tre caricatori E dei colpi di scorta Che sono i 9x18 Ve li mettete Nella pauce I proiettili di scorta Insieme anche alle cure Quindi portatevi Qualche benda Qualche splint E qualche AI Perché la benda Vi cura I sedi di sanguinamento L'AI2 Vi riaumenta La vita delle cose E lo splint Se avete delle fratture Quindi il mio consiglio Se siete nuovi Ovviamente Di andare con la pistolina Così capite ancora meglio Com'è fatta la mappa E se ammazzate uno scappa Vi prendete la sua roba E ve la giocate con quella Poi quando avete preso Un po' più la mano Se ve la sentite Prendete l'hpino Uguale Vi mettete uno O due caricatori di scorta Con qualche Sempre con qualche Proiettile di scorta Nel Nel container Per sapere Quali colpi sono Cliccate due volte Tasto sinistro O tasto destro Inspect E vi dice Insomma Che tipo qua 5.56 Poi ad esempio Vado qui E dice Caliber 57 per 28 Insomma Così sapete già Che cosa cercare Quindi La prima La vostra prima partita Da PMC Sarà quella Di andare a fare La missione La missione Di uccidere I scav E prendere i fucili A pompa E insomma Quindi voi dovete fare In questo modo Il gameplay loop Di questo gioco Essenzialmente è questo Voi entrate Fatele questa Ammazzate Luttate E uscite Ovviamente sta a voi Come approcciarvi al gioco Trovate il vostro Metodo migliore Ma noi nel prossimo video Vedremo Quale sarà Il miglior metodo Per approcciarsi Al gioco In particolar modo Vedremo la mappa Custom Quindi I vari spawn Di custom Dove potrebbero Dove potrebbero Mettersi le persone A controllare Le zone Dove dovete stare Attenti E quindi Il prossimo video Sarà concentrato Su questo Su come approcciare Il gioco In generale E poi Come approcciarsi Alla mappa Custom E poi penso che Nei prossimi video Tipo nel quarto Inizieremo a vedere Un po' Le varie armature E i vari proiettili La differenza Tra armature Perché se io Prendo queste due Vedete Comunque Ad esempio Il materiale Qui combine Ed è qua Ultra weight propilene Questa è già Una bella differenza Che poi vedremo Nei prossimi video Quindi niente Siamo arrivati Anche qui Alla fine Spero che le abbiate Seguito tutto E che vi sia stato utile Spero vi stia Veramente servendo Questa serie E niente Spero di riuscire A caricare Sempre Un video A settimana Ovvero ogni lunedì Alle 14.30 Fino a che non avremo Finito di parlare Di questo bellissimo gioco E quindi niente Ci vediamo nel Ci vediamo il prossimo lunedì Sempre a quest'ora Vi ricordo In descrizione Di dare un occhio Perché ci sono tutti I link utili Come il link Al discord Della comunità italiana E al mio discord E tante altre cose utili E vi ricordo anche Di dirmi Di che cosa vorreste vedere Nel terzo episodio Oltre al Insomma Come approcciarsi Al gioco E vedo Insomma Ditemi voi Che cosa vorreste vedere Oltre a quello Se c'è tempo Vedrò di farlo E se Ci sta Come terzo episodio Nel fatto che Come avevo detto Già In quello Insomma In quello scorso Che dobbiamo andare Passo passo Quindi io non posso Già mostrarvi Tutti i setup Metagame Adesso Per dire Quindi niente Di nuovo Vi ringrazio Per la vostra visione E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao E ci vediamo